Ed i 19 lavoratori in nero con due agriturismi che addirittura avevano tutto il personale irregolare, il bilancio dell'attività di controllo che i finanziari della Guardia di Finanza di Caglia hanno messo in campo nel periodo pasquale al fine di controllare la regolarità dei rapporti di lavoro nell'ambito delle attività turistiche. I militari hanno passato al settaccio il territorio di competenza, concentrandosi in particolare sull'Iglesiente, il Basso Campidano e il Sarrabus. Agli imprenditori è stata contestata una violazione amministrativa per un importo che può raggiungere i 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. I due agriturismo con tutto il personale in nero rischiano la sospensione dell'attività. Il contrasto al lavoro nero irregolare non punta solo al recupero delle imposte e dei contributi evasi dai datori di lavoro e al contrasto di forme di concorrenza sleale che inquinano le corrette regole del mercato, sottolinea una nota alla Guardia di Finanza, ma mira anche a tutelare i lavoratori e sta sotto il profilo delle condizioni occupazionali che sotto quello della sicurezza e d'assistenza in caso di infortunio. Le fiamme gialle hanno annunciato un'intensificazione dei controlli in vista dell'imminente stagione turistica, questo al fine di contrastare l'utilizzo dei lavoratori in nero o in posizione irregolare. Grazie. 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 Grazie.